Mi pare ovvio, evidente, scontato all'Aparissiano che le parole del cardinale Bagnasco non siano rivolte a Berlusconi. Ma come si potrebbe mai pensare qualcosa del genere? Quando si parla di critiche per gli atti licenziosi, relazioni improprie, cosa ci combinerà mai Berlusconi? Queste sono critiche accuse rivolte alla parte di sinistra comunista, licenziosa, sperfera e atti impuri, roba di ogni genere. Questa è la verità, va intesa in questo senso questa critica della Scei, non in altri, non facciamo confusione.